Rinvenendo Gotti e Savoldelli che stanno per raggiungere il terzetto che vediamo inquadrato in questo momento. Savoldelli che come al solito ha fatto una discesa da pazzo, ha guadagnato più di un minuto nei confronti dei Pantani e si sta riportando in questo momento sulla scia di Pegna. Gotti e Savoldelli. Cosa? Eccolo qua! Ecco qua Savoldelli e Gotti, quindi abbiamo un quintetto. Un momento estremamente importante, Savoldelli in discesa ha dimostrato ancora una volta le sue doti di grande discesista, di grande coraggio. Si riporta sui tre battistrada, quindi all'inseguimento di Missaglia, mentre vedete in prima posizione Pantani, poi Cauchioli, poi vedete Pegna. Ecco Savoldelli e Gotti si riapre, si fa per dire il Giro d'Italia. Savoldelli che adesso cerca di staccare il quartetto, questa è una bruttissima curva, vedete proprio che ha curvato, sono curve cieche. I corridori non conoscono assolutamente questo tratto, queste discese, sta nella sensibilità, nel capire fino a che punto puoi piegare la bicicletta. Ecco, hanno detto questa discesa, mentre ora vedete la maglia rosa, Gialaver. Grazie.